bella regà oggi che è domenica 11 vi voglio informare che presenti sulle console ps4 e ps5 già trovate il download dell'aggiornamento del 13 perdonatemi se questo video sarà veramente accorto per xbox ancora non si sa niente non è ancora uscito nessun download quindi affrettatevi a scaricare questo dlc ragazzi prima del tempo così martedì saremmo già pronti per giocare senza fare nessun download bella regà alla prossima